benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati qui con l'ohio in ohio ultramax battle la serie più figa del canale voglio però darmi un obiettivo non mi piace fare cose a caso il nostro obiettivo sarà brics no non sarà costruire mattoni ma sterminare uccidere annientare annettere totalmente i cinque paesi che fanno parte del brics diciamo un'alleanza che si contrappone possiamo dire agli stati uniti cioè è un'alleanza fatta da cinque paesi in via di sviluppo in emergente sviluppo che sono brasile sudafrica russia cina e india oddio la russia è già quasi schiattata cina e india saranno molto più difficili da invadere e questo è sicuro più brasile sudafrica appena citati il brics è un'alleanza possiamo dire che serve soprattutto ad imporsi tipo nel g7 nel g8 cioè siccome questi paesi non hanno grandissimo potere soprattutto hanno il veto contro hanno deciso di creare questa alleanza non sarò qui a spiegarvi per un'ora che cos'è il brics anche perché potrei sbagliarmi potrei andare fuori tema quindi se siete interessati cercate il video riguardo vi consiglio il canale di nova lezio è un canale che ne ha parlato di recente dunque non perdendoci in chiacchiere direi prepariamo due tipologie di eserciti io direi che 31.000 unità basteranno per difendere i confini oppure vediamo se già possiamo farlo qua dai facciamo così sfruttiamo il fatto che abbiamo comunque un confine sottile e proteggiamoci direi che questo basta come confine protetto attenzione perché il venezuela sta attaccando la colombia il nostro obiettivo non è conquistare quei territori e far estinguere gli stati dal pianeta quei cinque stati il canada potrebbe rivelarsi un po ostico quindi nel dubbio non so un esercitino glielo lasciamo na pensiamo al brics la logica dice di iniziare dal brasile ecco perché inizierò dal sud africa ricordate che la logica è per i polli noi andiamo in illogico potrebbe anche essere la nostra condanna fare sta guerra perché non è che abbiamo chissà quante risorse ma noi ce ne freghiamo dobbiamo far sì che contemporaneamente i cinque paesi non ci siano potrebbero annetterli noi o chiunque altro il sud africa sarà il primo a farne le spese 31.000 truppe sono davvero poche probabilmente lo so infatti già ne abbiamo perse una buona percentuale vediamo attenzione in questo giro non è morto nessuno l'invasione può quindi proseguire attenzione 259 perdite 233 è un po di ostacoli li stiamo iniziando a incontrare mi pare anche ovvio però noi non demordiamo e andiamo avanti vediamo se almeno riusciamo a finire la prima zona poi ovviamente con le nuove annessioni ce ne saranno altre ovviamente il sud africa sta combattendo contro di noi e col benin speriamo che non se ne vadano da altre parti mio obiettivo già detto annettere tutto senza lasciare il minimo buco attenzione perché il sud africa sta reagendo da sotto sperando non stia attaccando l'entroterra da capo esatto ovviamente e qui non so che dirvi forse me era meglio lasciare un backup forse sì se non c'è il backup che facciamo ce lo andiamo a prendere da soli andiamo qua coscrizione che è l'unico modo coscrizione è l'unico modo coscrizione no da qua no da qua no si perderebbe troppo tempo l'unica è fare così ovviamente da sotto ci faranno un male assurdo neanche a dirlo forse dobbiamo prepararla meglio questa guerra il nostro obiettivo comunque è prenderci le zone più importanti attenzione perché anche la nigeria ci sta aiutando andiamo a iniziare a deviare delle truppe dov'è qua queste le portiamo qua sotto iniziano a fare resistenza stessa cosa qua voi andate a reagire a ciò che sta per succedere un altro punto in cui si recluta bene no non c'è forse qua possiamo reclutarci così un esercito al volo e lo portiamo qua sotto ma ci toccherà fare una strenua resistenza spero distribuiscano male le truppe così da poter fermare l'invasione o comunque circondarla andiamo a bloccare almeno le invasioni nei punti critici così proprio con il grosso delle truppe e andiamo a completare il lavoro così così perfetto ora facciamo un confine solido e difendiamo stiamo attaccando il più scarso dei brics quindi pensate quando attaccheremo la cina o l'india visto che la russia è stata annichilita comunque attenzione la norvegia prova a farsi strada nel cuore del territorio ma noi siamo più forti qui difendiamo bene circondiamo la zona ed evitiamo di farci ripartire loro sono molti più di noi ma noi abbiamo la resistenza dalla nostra siamo già iniziati a sbarcare nei punti critici stiamo circondando le aree più pericolose qui poi direi di aspettare stanno arrivando i rinforzi spero l'obiettivo è non farli espandere troppo aspettate la nigeria ci ha attaccato ma la nigeria a noi non interessa quindi la nigeria si può stare dove la tanzania stessa cosa e il taiwan stessa cosa speriamo si levino dal mezzo da soli così evitiamo di subire troppi danni hanno accettato dai io l'italia l'italia se ne può andare anche ragazzi non voglio fare cose troppo confusionali il nostro obiettivo sono i brics e manterremo tale cosa la nigeria ci aiuterà o no non lo so fatto sta che noi stiamo sbarcando il resto delle truppe lo portiamo su dove serve poi iniziamo a dividerle così e quindi qua blocchiamo eventuali ripartenze su non so che si potrà fare vedremo intanto stiamo riprendendo il nostro territorio qui dobbiamo fare la deviazione qui dobbiamo fare un'altra deviazione ovviamente l'IA di age quando giochi a difficoltà alta è più forte però noi siamo più potenti perché adesso ripartiamo da qua da qua da qua e da qua perfetto vediamo come va loro riprendono territori ma ormai credo sia troppo tardi cioè le invasioni sono cominciate e non si fermeranno più lì non ci sono più buchi possiamo avanzare qua la situazione sembra essere sotto controllo più o meno qua anche qua anche ora lì si riespanderanno di nuovo lo so ma sembra stia andando nella giusta direzione si in effetti combattere i brics sarà difficile specie se tipo trattati di pace iniziano a fallire e tutto ok si potevamo fare una serie in cui non facevamo mai la pace e sfruttavamo questa cosa ma avrebbe avuto senso? in realtà no perché se l'obiettivo è invadere i brics quale nazione sensata deciderebbe di fare il contrario soprattutto stati che dovrebbero essere alleati nostri l'italia sta iniziando a creare un po' di problemi inizio ad avere il dubbio di invaderla semplicemente in quel momento ho deciso di fare pace con la nigeria perché non volevo che ci fregassimo troppi territori a vicenda e che loro perdessero territori nei momenti critici ma al che vada tranquilli che ultra rage è un concetto così come randomia in qualunque momento si può sia rifare che altro attenzione perché la adesso sta iniziando a perdere territori la nigeria territori che ora sono quindi sudafricani ma a noi non ce ne frega niente dobbiamo soltanto pensare qua dovremmo aver finito è rimasta solo città del capo che abbiamo appena attaccato e poi quassù anche direi che il 100% non è stato ancora preso perché manca 16 province qua e qua proviamo a fare un trattato di pace vediamo se ce lo consentono ce l'hanno concesso perfetto è una guerra divisa in più fasi tranquilli che le difficoltà arriveranno cioè questo è soltanto l'incipit per esempio l'italia non ha ancora fatto pace e voi pensate che la cina farà pace con noi quando vorremo? ovvio che no comunque questi due eserciti li sciogliamo perché non ha senso tenerli lì e adesso gli amici italiani pagheranno la loro incoscienza ci mettiamo qua il primo brick è ancora vivo infatti questo episodio si chiamerà probabilmente missione bricks o qualcosa del genere a proposito di bricks ringrazio bricks che si chiama quasi uguale ma non fa parte dei bricks per la copertina di questo video e vi annuncio che sta preparando qualcosa non vi voglio spoilerare troppo cosa non voglio che si sappia troppo in giro diciamo qualcosa di bello grande quando io dico su discord che è uno dei migliori mapper italiani beh diciamo che forse lo spirito guerriero si è risvegliato ecco vi ho fatto forse fin troppi spoiler adesso aspettiamo che il bro che il maestro droppi la hit droppi il capolavoro e che permetta a noi di godercelo credo di avervi dato troppi incipit adesso mi annienterà col suo potere comunque abbiamo un esercito di 49.740 740 no volevo dire 251 truppe 50.003 così tanto per attenzione stanno arrivando italiani per caso? no me li sono sognati andiamo ad attaccare Siracusa dai ragazzi attacchiamo Siracusa uh l'Italia ci attacca in Messico sembra fatta apposta attacchiamo da Gracias e da San Salvador perfetto direi problema risolto abbiamo consumato decisamente troppe risorse andiamo a vedere comunque questo è un ultra rage con l'Ohio quindi ho deviato l'obiettivo di invadere i Bricks come priorità se volete una serie proprio addirittura più estrema in cui non faccio neanche la pace con chi mi attacca fatemelo sapere anche se lì rischia di essere un po' pericoloso nel senso che se ci attacca qualcuno di sbagliato la serie potrebbe finire prima di cominciare cioè non dipende dalla mia bravura ma dalla mia fortuna lì sto per attaccare la mia città natale purtroppo ma è necessario per fermare l'Italia vediamo se la Sicilia basterà come monito qui andiamoci ad assimilare altre due città come vedete i soldi non sono mai abbastanza ovviamente loro ci hanno riattaccato e questa volta non possiamo contare troppo sulla coscrizione ecco questo è uno di quei casi in cui la massima difficoltà si fa sentire non ho intenzione di chiedere debitoni però sono loro che stanno attaccando noi quindi sono loro che alla lunga avranno problemi di truppe noi possiamo farlo tutto tutto il giorno oddio tutto il giorno proprio no però ecco avete capito il senso nel frattempo andiamoci a prendere la Sicilia la Sicilia sarà il nostro obiettivo attacchiamo Agrigento e Catania loro provano a espandersi ma in vano io qua ho il controllo delle truppe uh aspettate abbiamo anche l'esercito provvisorio noi sarebbe un peccato non usarlo proprio in questi casi no? qui il nostro monito si fermerà a Messina a meno che non continueranno a darci fastidio io farò così adesso finché loro ci daranno fastidio li attaccherò anche a costo di essere io la causa della fine dell'Italia perché sono loro che stanno attaccando me dai un altro piccolo plot twist è stato fatto e adesso finché loro ci attaccheranno noi attaccheremo loro attenzione difendiamo Catania e attacchiamo Reggio Calabria la manovra a Tenaglia ha funzionato attenzione perché prendere l'Italia sarà difficile l'Italia non è che sia tutto sto granché su Age quindi preparatevi perché le invasioni grosse saranno grosse per davvero coscrizione direi un po' qui un po' là e tutto dovrebbe essere stato ripreso bene vediamo se abbiamo già mandato l'attacco sì il resto della Calabria sarà preso mi basta per la pace bianca direi che ci prendiamo la Sicilia e il tacco dello stivale perfetto ragazzi loro hanno voluto questo e io glielo ho dato adesso la Sicilia e la Calabria sono nostre forse attaccare i Bricks sarà un po' più complicato specie se stati così decidono di mettersi in mezzo comunque voglio punire uno stato un pochino voglio dare la giusta punizione a ogni stato la Germania sta diventando un nuovo impero meno male che non fa parte dei Bricks dunque andiamo ad assimilare un po' di roba che ce n'è in abbondanza Messina è tra queste no la Zambia l'Ohio dobbiamo assimilare Cape Town pare che abbiamo finito ottimo portiamo al 10% le nostre risorse e anche questo è fatto quanti eserciti abbiamo qua una Reggio Calabria ah giusto dobbiamo riportare l'esercito a posto l'esercito di confine di difesa del confine beh lo lascerei qua in realtà sapete andiamo a prepararci un altro da portare in Italia l'Italia diventerà ovviamente la nostra nuova base strategica dalla quale faremo partire le invasioni future perché strategicamente è messa meglio dell'America secondo me paradossalmente potrebbe essere meglio l'America perché il mondo è rotondo e non piatto ellittico chiamatelo come volete è geoidale diciamo non è piatto ecco forse dicevo quindi commentate con mondo piatto se siete arrivati fino a qua vediamo se arriveranno prima le truppe in Italia o qualche altro nemico che deciderà di attaccare l'ultra rage diciamo darò delle piccole punizioni d'ora in poi a ogni nemico gli conviene non far scherzi perché se è un'isola la punizione sarà l'annessione in caso contrario la punizione sarà un semplice territorio dei BRICS abbiamo il Sudafrica sotto attacco il Brasile che credo sia quasi scomparso il Brasile è rimasto con una sola provincia attenzione perché se perde il Brasile potrebbe essere per assurdo un BRIC in meno no il Brasile è rimasto con 5 province purtroppo e sarà difficile prenderle così credo dovremmo dirigere le nostre attenzioni altrove con 47.000 truppe però non sarà semplice quindi continuiamo così aspettiamo giusto qualche turno e vediamo se l'Italia pian piano diventa operativa uh il Brasile ci ha attaccato ragazzi questo è quello che chiamerei un colpo di fortuna dov'è il Brasile però scusate un attimo non c'è neanche un porto va bene a Siracusa costruiremo un porto ovviamente la nostra città e il porto glielo facciamo nel prossimo episodio vedrete questo non so se da lì ci possono andare le truppe vediamo no e allora attenderemo e va bene ragazzi il video finisce qui mentre faccio l'outro mi porto avanti per vedere se succede qualcosa mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi mi piace passate dal server discord dal canale twitch e dal canale di pricks autore della copertina di questo video detto ciò qualche perdita è già arrivata chiediamo alla Bolivia l'accesso militare direi che il Brasile è spacciato e noi ci vediamo con un prossimo video ciao